C'era Maroni che diceva a quello del PD, voi qua Bibiano, non so, quello del PD che diceva a Maroni siete dei ladri, tirate fuori i 49 milioni che vi siete rubati e poi noi non prendiamo i soldi dalla Russia. Quell'altro di Forza Italia che diceva noi vogliamo un paese e quello diceva ma cosa volete voi? Avete un presidente condannato, indagato, io spero che la gente a casa abbia capito che sono tutti una massima di merda, sono tutti una massima di pezzenti sono. A quella gente di noi non gliene fotte, è un cazzo, tanto hanno il culo coperto loro e i loro figli, hai capito? Perciò facciamo funzionare il cervello e scegliamo il male minore perché purtroppo il male esiste.